Buonanotte, fate che la vostra non sia tra esse e tutto andrà bene. Ora, la battaglia ci attende! Quegli altezzosi guerrieri sono cartaginesi. Si credono pari a noi come avversari. Io credo invece che aspettino solo di morire. Sembrano ansiosi di buttar via le loro vite in un assalto. Faremmo bene a mandarli tutti all'aldilà! Oggi nessuno ha il vantaggio del numero. Dunque saranno l'abilità e il coraggio a decidere il vincitore. Ciò detto è anche vero che loro sono guerrieri più forti. Oggi la forza bruta non basterà. Gli dèi ci hanno arriso. I presagi sono tanto numerosi e favorevoli. Che se li descrivessi tutti, oggi non resterebbe più tempo per combattere. Ora, impugnate le spade. Tendete gli archi. Indossate le corazze. È arrivato il momento di mostrare il coraggio romano. Guardate! Aspettate i miei ordini! Guardie e cittadine! Avanti! In marcia! In marcia! Astati! In marcia! Muoverci! Avanti! 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 Arceri auxiliari! Avanti! Auxiliari! Guardie e cittadine! Guardie e cittadine! Avanti! Guardie e cittadine! Avanti! Guardie e cittadine! Avanti! Ausiliari leggeri! Avanti! Guardie e cittadine! In marcia! Auversa! Ausiliari leggeri! Avanti! Avanti! In marcia! Avanti! Avanti! Ai! 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 Guardie e cittadine! Guardie e cittadine! In marcia! Guardie cittadine! Avanti! Guardie cittadine! Avanti! I'm scared! But I'm scared! I've never heard of a fool! Oh man... I'm scared! Grazie a tutti. 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 All'attacco! Guardie cittadine! All'attacco! Auxiliari leggeri! Guardie cittadine! Guardie cittadine! All'attacco! All'attacco! Guardie cittadine! Guardie cittadine! Guardie cittadine! All'attacco! Guardie cittadine! Guardie cittadine! All'attacco! Guardie cittadine! All'attacco! All'attacco! Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. 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 Andati! Tirare a volontà! Oh, oh, oh. Unità! Formazione! Carica! A stati! All'attacco! Audiliari leggeri! All'attacco! A stati! All'attacco! Attendere i miei ordini! Anniettateli! Audiliari leggeri! Uccideteli! Audiliari leggeri! Unità! Unità! Attaccare! Unità! Unità! Attaccare! Unità! Arcieri! All'attacco! Unità! Uccidetevi! Pregnato! 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 Pausiliari leggeri! Uccideteli! Guardie cittadine! Uccideteli! In fretta! Guardie cittadine! All'attacco! Ausiliari leggeri! Anniettateli! Unità! Unità! Attaccare! Unità! 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 Grazie a tutti. 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 Muoversi! Muovetevi! Muovetevi! Scorpioni! In marcia! Di rara volontà! Scorpioni! Di rara volontà! Conagri! Muovetevi! 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 I nostri soldati sono alle mura! Ora devono aprirsi un barco! I nostri soldati sono nei pressi della porta! Ora devono riuscire ad aprirsi un barco! Scorpioni, affincare il fuoco! La porta nemica è stata sfondata! Il nostro riete ha svolto il proprio compito! Non mostrare pietà! Le mura nemiche sono state abbattute! Assicurati che i soldati nemici siano stati sepolti sotto le rovine! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Fai facendo! Uccideteli! Spegnerai diamo! Ci stanno attaccando! I dèi ci hanno sorriso oggi! Le mura sono sfondate! Le nostre truppe dovrebbero ricevere l'ordine di avanzare! Ci stanno attaccando! Grandi dèi! I nostri soldati si sono comportati bene oggi! Le mura sono state prese! E più iniziamo! I due malattie! Avabastacchi! Avabastacchi! Pugnero! Avabastacchi! A presto! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!